Tra gli ambienti degli oltre mille chilometri di costa siciliana quello delle dune postiere esercita un fascino paesaggistico di grande rilievo ma è soprattutto custode di importantissime equilibri naturali tra degrado e salvaguardia tra speculazione difesa dell'ambiente tra saccheggio e conservazione della bellezza siamo andati a vedere qual è lungo le coste siciliane lo stato di conservazione dei litorali delle spiagge con particolare attenzione alle dune costiere abbiamo anche cercato di conoscere chi le studia nel tentativo di promuovere conoscenza e rispetto attenzione a tutti i nostri spiaggiani attenzione a tutti i nostri spiaggiani attenzione a tutti i nostri spiaggiani